Saranno un centinaio gli artigiani e i commercianti lodigiani che martedì prossimo 18 febbraio raggiungeranno Roma in treno per partecipare alla manifestazione nazionale indetta da Rete Imprese Italia. Si tratta dell'associazione che raccoglie i case artigiani CNA Conf Artigianato Conf Commercio e Conf Esercenti. Riprendiamoci il futuro e lo slogan che accompagnerà la manifestazione di protesta, la prima che vede assieme i commercianti e artigiani. Non ce la facciamo più, hanno ribadito Gianluigi Bricchi dell'Unione del Commercio, Bassolo Di Giano, Gloria Ferrari di Conf Artigianato Imprese, Nicola Marini dell'Unione Artigiani e Annarita Granata dell'Unione del Commercio. A Roma saranno oltre 45.000 gli imprenditori che ribadiranno a governo e Parlamento che senza impresa non c'è Italia. Ma cosa si aspettano commercianti e artigiani? La riforma del sistema fiscale, l'accesso al credito, la semplificazione della burocrazia, il miglioramento del sistema dei trasporti e la riduzione dei costi energetici. Riusciranno ad ottenerli? Difficile dirlo con un governo che se ne è appena andato ed un altro che deve ancora insediarsi.